Benvenuti a un nuovo video, oggi è di colà 5. Ho comprato le cose da legna e anche il vestito di bagno. Quindi sarà una doppia recensione. Iniziamo col vestito. E adesso andiamo ad aprire. Prendo le forbiture, secondo che lo taglio e lo apro. L'ho aperto, come sempre comprende un giornalino, un vestito. Qui c'è l'immagine della Barbie e la Barbie qui, quindi dietro il vestito ed eccolo qua. Dentro comprendiamo questa bellissima collanina, nera con il bellantino. Ok, che andrà a finire sul mio vendino. Poi adesso andiamo a dire altre cose. Ok, le cose da recensione sono il mio skifiddle da Miss Lime, argento, le dreamies e il num nums che sono simili con le bustine. Ok, iniziamo dallo skifiddle. Questi metto da parte. Ok, già lo vedo fantastico. Oh mio Dio! Oh, guardate! Che fantasticheria è! Ok, troviamo l'eccesso che sta tutto sulla... Sulla... Come si chiama? Sulla come si chiama, sì. Oh mio Dio! Lo slime come vedete è argento! Guardate i glitter! C'è il tatto! E' bellissimo! Vede assolutamente comprarlo! C'è! Guardate che figo! E' bellissimo! E' anche semitrasparente! Guardate che è una cosa fantastica! C'è! No! Una cosa bellissima! Qui c'è il solito booklet. Poi togliamo lo slime su! Ok, adesso lo esaminiamo! Si allunga! Poi il romano lo fa! Poi se lo fa! E' bellissimo! Guardate! C'erano tutti i brillantini! Bellissimo! La scatola è bellissima! La scatola come vedete è bianca! Ok, prima cosa ci piace! Qua sta il booklet che è sempre lo stesso! Prima cosa ci piace! Poi la seconda cosa è aprire i new gnomes! Prendo le mie formi di ciugole! Eccomi qua! Siamo curiosissima di questi! Ok, vediamo! Se usciranno sia il gnome che il gnome! Sia il gnome che il gnome! Sennò lo so! Vediamo! E' scatola tutti i due! Ma che è bellissimo! Oddio mio! E' la cosa bella del gnome! C'è nel capito! No! E' bellissimo! E' una cosa fantastica! Oh! E apriti! Io pensavo che uscivano solo il gnome come disse il gnome come disse il gnome! Invece escono tutti e due! C'è la parte in silicone che è sotto! Non ci credo! Ah! Aprete! Cerco di non rompere la sorpresa! Oh mio Dio! Che bello! Questa è la parte in silicone e questa è il gnome che è il gnome che è il gnome che è il gnome! Il gnome che è il gnome che è il gnome che si apre proprio da sotto con i forbici! Sotto appunto c'è la plastica! Eccola! E vediamo che sono le fila labbra com'è! Un altro odore! Giallo amatola di menta! Bellissimo allora! Seconda sorpresa ci piace! C'è un lipgloss dentro appunto! Quindi secondo sorpresa ci piace! Mettiamo poi l'esposizione! E adesso leggo in me! Se sono curiosissima anche in queste! Ok per sentiamo quello che ho trovato! Non mi ha quanto sono grandi! C'è un booklet qualcosa? No! Mettiamo quanti sono grandi e belle! Non apro! Io ho trovato questa arancione che sicuramente sarà fantastica! Perché sono fatta in questo modo con le braccine troppo carine! Vediamo come si accende! Wow! Bellissimo! Guardate ragazzi! Dai! Sono fantastiche! Così! Così! Bellissimo! Dai! Ci piace! Dai! Sto spesa! La luce dice che si dovrebbe spegnere! Vediamo! Trovo il tablet in faccia! E appunto si è spenta la mia! La luce appunto si è spinta come vedete! Senza che io faccio tac! Vi faccio rivedere! Secondo mostriamo la luce che si vuole illuminare! Ok! Vedete! Io non tocco il tasto! E da sola si spegne! Vedete! Ecco fatto! È una cosa bella! Adesso l'accendiamo! Il buio! Il buio! Ecco! Il buio! Il buio! Adesso andiamo alla luce! E si è spenta! Vedete? Eccola! E niente! Queste sono le sorprese bellissime! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Iscrivetevi al canale e mettetevi un bel like!